la piramide di cheope al suo interno è un vero e proprio groviglio di cunicoli di passaggi e di camere c'è una camera cosiddetta del re una camera della regina e una serie di condotti che li collegano sia con l'esterno che tra di loro diciamo che sono in tanti che si sono cimentati a dare una spiegazione della funzione di questi passaggi ma noi è sembrata molto interessante l'analisi di corrado malanga almeno in una prima parte della sua analisi cioè lui ha fatto delle osservazioni interessanti e ha concluso che la piramide di cheope veniva riempita di acqua quindi noi condividiamo questa anche se poi non aderiamo diciamo alla sua interpretazione di macchina risuonante una sorta di macchina che amplificava certi suoni che favorivano la spiritualità più o meno diciamo riassunta molto rapidamente potrebbe essere questa una sintesi noi collochiamo la piramide in un altro contesto quindi questo video può essere considerato una un proseguimento di questo primo che fa un'analisi tecnica del fatto che diciamo la piramide di cheope veniva riempita di acqua e quali erano le modalità per farlo diciamo i vari rubinetti di facce di blocchi di pietra che si aprivano che si chiudevano diciamo per permettere il riempimento e lo svuotamento diciamo per apprezzare appieno questo video bisogna diciamo dare un'occhiata a quest'altro quindi noi diciamo ci muoviamo all'interno della teoria degli antichi astronauti e quindi pensiamo fosse una macchina che fosse destinata a mettere in orbita dell'oro quindi ora cerchiamo di capire com'è che siamo arrivati a questa conclusione noi diciamo in questo canale ci occupiamo particolarmente di una materia che noi abbiamo battezzato escatologia scientifica cioè le cose che vengono normalmente denominate fine del mondo ma lette in chiave scientifica e diciamo che in questa opera di approfondimento ci ha aiutato molto lo studio di una serie di documenti della bibbia di colbrin conosciuta così una raccolta che si presuppone provenga dalla biblioteca d'Alessandria a sua volta dai templi egizi così come diceva diciamo platone raccontando le vicende del re solone che si recò in egitto quindi uno di questi racconti presenta una versione dell'esodo diciamo diversa di quella della bibbia diciamo c'è tutta la questione degli ebrei della fuga eccetera eccetera coincide ma diciamo le 10 piaghe in realtà sarebbero provocate da un asteroide di piccole dimensioni che sfiora l'atmosfera che viene chiamato distruttore che diciamo un po il protagonista di molti racconti di questa bibbia di colbrin e quindi diciamo noi avendo analizzando questo racconto abbiamo ricostruito più o meno la traiettoria di questo corpo celeste che dovrebbe essere passata sul basso egitto quindi nel zona di cairo e quindi noi in questa bibbia di colbrin abbiamo analizzato vari racconti diciamo un secondo racconto che noi riteniamo molto importante il cosiddetto diluvio di ziusudra proveniente dalla letteratura babilonese sumera ecco questo la particolarità di questo racconto è che presenta il distruttore come protagonista quindi questo asteroide di piccole dimensioni che sfiora l'atmosfera sarebbe il protagonista dei diluvi ma questa in realtà non è una novità perché è esattamente quanto racconta il sacerdote egizio al solone il re greco il resoconto contenuto nei dialoghi di timecrizia di platone cioè il sacerdote il re solone va a raccontare di del diluvio di deucalione pirra e il sacerdote gli dice guarda che non avete le idee chiare ci sono tante diciamo catastrofi cosmiche sono provocate da un oggetto che voi conoscete come carro del sole di fetonte che quindi questo carro del sole di fetonte è un diciamo un fatto realmente accaduto ora tenuto conto che il primo dei due racconti si svolge intorno al 1200 avanti cristo e questo è il diluvio di zisudra nel 2700 è un evento che si ripete con modalità simili quindi diciamo qualcosa che sfiora l'atmosfera perde l'energia quindi non può essere ciclico quindi noi arriviamo alla conclusione che un corpo celeste di origine artificiale quindi diciamo un po la tesi di questo canale è che il distruttore questo corpo celeste che provoca le fine del mondo che non è una sola ma sono tante è controllato dagli alieni quindi esattamente come dichiarano del resto i racconti mesopotamici sumeri che dicono che il dio elil il governatore della terra controllava il distruttore diciamo controllava i diluvi e quindi questo gli dava un grande potere diciamo di governare la terra perché questo questo fenomeno cosmico era veramente spaventoso e quindi come dicono i profeti ebrei ogni ginocchio si piega davanti a questo fenomeno quindi noi approfondiamo questa ipotesi quindi a cosa serviva varie cose che noi nel nostro canale diciamo analizziamo quindi serviva a sostituire diciamo vecchie razze umane che avevano creato loro con nuove razze quindi eliminando dalla scena le prime ma noi sosteniamo che è un mezzo tecnologico per collocare in orbita l'oro che loro in metallo l'oro che loro estraggono delle miniere che noi presentiamo anche nel nostro canale osservate su google earth quindi diciamo in questo video bene o male sintetizziamo i fatti che ci hanno portato a diciamo concludere che hanno questo tipo di tecnologia elettrostatica che quindi sono in grado di caricare un corpo celeste con una carica elettrica e poi atterrare l'oro che viene collocato sulla punta delle piramidi quindi noi sosteniamo questa tesi e quindi cominciamo a ricostruire come si svolge la fase finale dell'attività di questo di queste piramidi diciamo che intorno al 1200 avanti cristo nel tempio di karnak risiedeva il dio ammon che non era per noi un'entità spirituale ma aveva un incaricato di presiedere questo tipo di operazioni quindi il faraone arrivava e depositava l'oro nel tempio di karnak l'oro diciamo proveniente dalle varie scorrerie dai tributi versati dai sudedi ma non ultimo dai proventi derivanti da una siccità terribile che aveva costretto tutti a diciamo svenarsi per comprare il cibo dal faraone che in realtà lo produceva così come diceva la bibbia le famose sette vacche grasse sette vacche magre tutto quest'oro era accumulato sulla punta della piramide quindi era in attesa del passaggio del distruttore era in attesa di venire caricato con una carica elettrica perché se fosse stato caricato molto prima diciamo il distruttore quando si avvicinava da un lato lo avrebbe buttato giù dalla piramide quindi era importante che al momento in cui il distruttore si trovasse si trovava sulla verticale la carica elettrica veniva iniettata dell'oro una carica elettrica che invece veniva trattenuta dal peso della piramide quindi diciamo che nella nostra ricostruzione la grande dimensione della piramide è proprio una specie di zavorra che serve a tenere bloccata una carica elettrica e dove si troverebbe questa carica elettrica in un grosso serbatoio che viene chiamato il condotto principale che è questo qui che è un po il protagonista di questa nostra storia quindi la carica elettrica si trova in questo condotto e al momento che il distruttore passa viene trasferito a loro e loro decolla come abbiamo visto in questa ricostruzione quindi il problema di tutti i meccanismi che sono all'interno della piramide secondo noi sono un insieme di meccanismi che numero uno permettono a un addetto non tecnico di attivare tutta questa macchina e numero due permettono a questo addetto di scappare prima che arrivi il distruttore quindi una specie di miccia che dà il tempo di scappare a chi accende la macchina quindi vediamo come queste operazioni diciamo secondo noi si svolgevano utilizzando ovviamente la visione del video la piramide di che veniva riempita d'acqua è propedeutica per riuscire a capire a fondo le cose che adesso diremo quindi partiamo dall'idea che il distruttore quindi vediamo che il distruttore è la causa dei diluvio per esempio se prendiamo il diluvio di Noè piove sulla terra 40 giorni e 40 notti e questo sembrerebbe essere frutto del fatto che il distruttore comprime l'aria e quindi crea dei flussi d'aria che possono essere anche freddi caldi infatti un fenomeno classico delle apocalissi e la contemporanea presenza sia di fuoco sia di grandine quindi diciamo questi due fenomeni e quindi ci sono grossi fenomeni di perturbazione dell'atmosfera quindi si presuppone che ci sia una grande quantità di acqua e quindi vediamo qui il primo aspetto che diciamo le superfici delle piramidi in realtà non sono piatte sono formano una specie di grondaia e al centro di questa grondaia si aprono questi canali quindi secondo noi questa questa forma è studiata apposta per fare entrare una buona quantità di acqua dentro questi cunicoli quindi diciamo nel video precedente abbiamo visto come vari rubinetti presenti un poi qua e la permettevano di riempire svuotare questo grosso serbatoio perché non si spiegherebbe altrimenti come mai hanno fatto questo questo grande ambiente così che non è un semplice passaggio secondo noi è un serbatoio di acqua quindi chiudendo i rubinetti che lasciano andare via l'acqua nel diciamo di drenaggio quindi farebbe l'acqua normalmente farebbe questo percorso quando si chiudono questi due rubinetti inizia a riempirsi quindi l'ha detto come prima cosa secondo noi levava i tappi diciamo di questi fori e quindi l'acqua cominciava a riempire questo grande serbatoio a questo punto entra in scena diciamo questo è il serbatoio quindi l'acqua arriva da questi cunicoli e comincia a riempire il serbatoio ma riempie anche questo condotto che va nella cosiddetta sala camera della regina e qui vediamo che nella camera regina c'è questo specie di cunicolo a scala e noi abbiamo fatto una ricostruzione di cosa poteva servire questo cunicolo quindi sostanzialmente serviva a fare in modo che quando la pressione dell'acqua raggiungeva un certo livello il masso si spostava e questa camera che viene chiamata la camera della regina che secondo noi conteneva le apparecchiature tecniche iniziava a produrre carica elettrica ea caricare l'acqua quindi diciamo questo masso serviva a verificare che sostanzialmente ci fosse già abbastanza d'acqua per fare in modo che le macchine potessero lavorare quindi le macchine di che caricavano l'acqua con queste in questa zona a questo punto la piramide finiva di riempirsi e le macchine mettevano cariche elettriche in questo grosso serbatoio e a questo punto che succede che quando il cunicolo si riempie entra in scena questo il sarcofago il sarcofago è un meccanismo che è presente anche nei diciamo nei sciacquoni dei water senso è un meccanismo che serve a fare in modo che quando una appunto lo sciacquone si riempie all'ultimo momento si riempie un piccolo serbatoio e fa chiudere la valvola e secondo noi è esattamente quello che succedeva qui quindi quando l'acqua arrivava qui 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 secondo noi ci deve perché qua corrado malanga fa osservare che c'erano dei passaggi che sono stati murati quindi secondo noi qua sotto c'è un meccanismo che tramite il peso dell'acqua che entrava nel sarcofago si faceva scattare qualcosa si chiudevano le sare ginesche dopo la chiusura di queste sare ginesche questo serbatoio è isolato quindi è chiuso e quindi è in attesa di di far scattare un meccanismo quindi vediamo a questo punto cosa succede quest'acqua va a fare pressione su un pistone che si trova in questa camera quindi in questo punto che è stato trovato una specie di pistone con un cilindro che diciamo però viene bloccato dal vuoto di torricelli vediamo che se noi capovolgiamo non diamo modo di entrare aria alla cima del serbatoio non può uscire l'acqua quindi a sto punto che succede che qualcuno un po' prima che passi il distruttore liberava un serbatoio che bloccava questo pistone quindi dava in modo a questo a questa aria da questa parte di uscire e quindi che succede entra in ballo il il car così come viene chiamato che secondo noi è uno strumento per creare un ritardo perché l'aria che c'è in queste varie camere che sono teoricamente isolate ma secondo noi non perfettamente comincia a diffondersi fino a entrare nel passaggio il passaggio che è la cima del serbatoio quindi che significa che quest'aria permette al fluido di scendere e fa avanzare piano piano questo pistone che si può vedere che è dotato di maniglie di rame che mettono in contatto l'acqua con il un tipo di circuito che trasferiva faceva scattare il meccanismo quindi questo serie di vuoti servivano a dare il tempo a chi apriva diciamo il rubinetto diciamo dava modo al pistone di avanzare che il pistone avanzasse lentamente quindi che si potesse attivare questo meccanismo un tempo prima del passaggio quindi la persona potresse mettersi in salvo perché l'azione distruttiva del distruttore appunto si chiama distruttore è notevole quindi non è proprio una grande cosa trovarsi qua nel momento in cui lui passa quindi le persone che avevano aperto il secondo circuito quello che liberava i pistoni avevano tempo di mettersi in salvo